Start, 2, 1, missione, and lift off! Questa è l'avventura che mi è capitata questa mattina su Starfield. Sono partito dal bar di Nuova Atlantide, dove ho appena reclutato il primo membro del mio equipaggio. Mi guardo intorno e scopro che ci sono altre persone che potrebbero lavorare per me. Ad esempio lui, che è uno specialista di carico, con l'abilità a una stella. Ma purtroppo, ho già speso tutto per modificare la mia nave, cosa che tra l'altro mi ha divertito parecchio la scorsa notte. Quindi decido cosa posso fare per guadagnare qualche credito supplementare. Torno alla mia nave, superando l'area dell'IUC, dove vengono ispezionati i carichi e i passeggeri. E decido appunto di tornare alla nave per dare un'occhiata alle modifiche fatte ieri sera. Intanto gli avvisi sulle pareti segnalano che inoltrarsi in questa zona, mentre una nave sta partendo, potrebbe essere l'ultima cosa che fate. Questa è la nave. La nave che ho potenziato. Gli ho aggiunto praticamente un piano. Infatti, una volta entrati, c'è la zona dove si sale con la scala a pioli. C'è un habitat in grado di ospitare due persone. Questo è un bellissimo oblo che ci consente di vedere all'esterno. E dal tavolo di navigazione è possibile poi scegliere di andare in un'altra location. Ma, prima di tutto, devo controllare se il nuovo ospite sta tenendo il bagno pulito. Quindi decido di chiudermi all'interno della cabina di pilotaggio. Dato che il mio compagno mi segue praticamente ovunque e si mette davanti a me in qualsiasi momento. Un controllino alla stiva della nave, giusto per controllare se è tutto a posto. Se tutte le risorse del mio inventario sono state trasferite in modo corretto, così da alleggerirmi. E poi si può partire. Ci insediamo i comandi. Ormai l'animazione la conosco a memoria. Che poi tra l'altro non è l'unica. Perché prendendo altri cockpit le animazioni cambiano. E anche di conseguenza la grafica. Decidiamo di decollare cercando altre avventure tra le stelle. Lasciandoci guidare dal caso. Prendiamo ciò che viene, ciò che il gioco ci offre. Decido quindi di andare a esplorare un sistema di Alpha Centauri. Scegliendo la luna di Chabla. Non è possibile scansionarla in questo momento. Ma ha dei materiali che sembrano essere interessanti. Quindi per prima cosa impostiamo la rotta. Viaggiamo. Una volta arrivati, questo è lo spettacolo che ci si offre davanti. Dobbiamo decidere dove andare. E prima di tutto, vabbè, è importante scansionarla in modo da vedere la distribuzione delle risorse all'interno della superficie. Poi è nostra facoltà scegliere dove andare, in quale punto impostare il luogo di atterraggio. Ancora non sapevo cosa sarebbe successo. Una cosa assolutamente incredibile. Che mai mi sarei aspettato. So che poteva succedere, ma non sapevo quando. Vedrete. Ora atterriamo sul pianeta e iniziamo l'esplorazione. Io sto puntando molto la mia build sull'esplorazione, quindi è importante andare a scavare dei materiali. Ma la cosa che noto appena atterrato è un'altra nave che atterra vicino a noi, a poche centinaia di metri. Quindi decido di raggiungerla con curiosità, anche se in cuore mio so già che probabilmente sarebbero state delle persone ostili. Mi balza intanto all'occhio anche un'altra location, ma comunque appena arrivati sul posto scopro che sono degli ecliptic, dei cattivissimi mercenari che cercano di uccidermi. Sfruttando la mia strategia tattica riesco ad aggirare uno di loro e ucciderlo alle spalle, per quanto il primo colpo fosse praticamente a vuoto. L'altro invece decido di sparargli da lontano, ma è per lo più il mio compagno a finire il lavoro. Infatti viene terminato, ma viene colpita anche la sua bombola del jetpack che lo fa fluttuare, esplode in aria e poi viene catapultato via. Forse è un po' troppo lontano per andarlo a lutare, ma è stata una scena davvero simpatica. Decido quindi di non lutare il suo corpo e lasciarlo. Decido di entrare a bordo ed esplorare la nuova nave. Sicuramente c'è ancora qualcuno a bordo, anche se il dubbio ce l'ho perché non è ripartita subito. A volte la nave riparte quando sono in emergenza. Quindi decido di esplorarla con il mio companion. A bordo sembra tutto vuoto, trovo anche degli oggetti che posso raccogliere. Li raccolgo. E anche questa antichità del mercato nero, un oggetto che è vietato, proibito, bandito. Quindi è contrabbando ufficialmente. Uso pure l'ascia ad un certo punto, sfruttando i bellissimi combattimenti corpo a corpo. Ovviamente sono sarcastico, dato che tutti criticate il combattimento corpo a corpo, che effettivamente non è, è sicuramente peggiore del combattimento a distanza. Mi metto al comando della mia nuova nave. Il gioco mi dice che ora questa nave è mia. C'è un altro problema da risolvere. Dobbiamo mettere via la scatola del contrabbando. Crafto a casa mia, velocemente, una scatola e ci deposito all'interno l'oggetto del mercato nero. In modo da evitare che mi scoprano e mi ispezionino quando magari tornerò a Nuova Atlantide. Cosa che faccio tra l'altro immediatamente. Vado dallo specialista delle navi al porto. Faccio un confronto spasmodico tra le due navi. Decido di esplorare quindi un'altra luna. La luna chiamata Lovell. Il viaggio è interessante. Decido di rilassarmi un po', ma non appena giungo nell'orbita della luna scoppio un combattimento tra navi della federazione e pirati. Una volta aiutati quelli della federazione, questi decidono di propormi un'offerta. Vogliono pagarmi con crediti o pezzi di ricambio o la possibilità di prendere il loot delle navi appena abbattute. Io scelgo quest'ultimo, ma mi faccio trarre in inganno da un waypoint che compare sul pianeta, che è una nave precipitata. Decido di andare lì e forse scopro che non ha nulla a che fare con le navi appena abbattute. Addio loot nello spazio. Loot molto più piccolo all'interno della nave, che probabilmente era già lì e non era una di quelle appena abbattute, ma va bene. Non finisce qui però, ci sono altri punti di interesse che destano la mia attenzione. Osservo bene la mia nave, cerco di capire dove tornare una volta che avrò finito l'esplorazione e trovo l'ingresso di una miniera. È una miniera abbandonata, andiamo all'interno e vediamo che c'è un minatore morto. Non sarà tra l'altro l'unico all'interno di questa miniera. Prendiamo i crediti, servono più a noi che a loro, e andiamo all'interno dove ci sono dei funghi luminosi. Accendo la torcia, esploriamo un pochino, trovo delle risorse interessanti fino a trovare una seconda uscita. E appena usciti c'è la meraviglia, un avamposto abbandonato dove sta sorgendo il sole, il sole sulla luna di Lovell. Fantastico. E qui c'è un buon giacimento di nickel, quindi perché non provare a fare un avamposto qui, cosa che nel gioco non avevo mai fatto? Quindi perdo decine di minuti, cercando di capire come funziona questo sistema, piazzo la prima trivella di nickel, serve poi una fonte di energia, quindi metto un pannello solare, che però non basta, mi dà solo energia 4, ma me ne serve 5. Quindi piazzo due pannelli solari con potenza 4, e quindi arrivo a una potenza 8. 5 è il valore richiesto, quindi riesco a farla funzionare. La trivella funziona, produce nickel, intanto il mio compagno di viaggio, la mia compagna di viaggio, vuole parlarne. Mi racconta di quello che gli è successo in passato, e mi dice addirittura che il suo vecchio datore di lavoro è in pensione, e possiamo andarlo a trovare quando vogliamo su uno dei pianeti presenti in gioco. Fantastico! Un'esperienza veramente che ho deciso di portarvi, perché mi è piaciuta molto, ed è stata una giocata completamente random. Spero l'abbiate apprezzata, e fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima! E ciao ciao!